E' qui con noi, Enzo! Non abbandonate mai i nostri sogni! Non abbandonate mai i nostri! Mi se'l ridi sempre cosi, se faci provir. M'ho vi dide che i lo faccio. Questa è l'ultima raffetta, non famosa! E poi! Ha chiamato questa riva, ha chiamato questa c... Ha chiamato questa là! Non ci ha fatto l'animo! E poi mi hanno vediato! E Strunz! Ho detto niente di strano, io sono veramente il grande fratello. Voi volete entrare in quella casa? Si che voglio entrare! E ci entrerete! Ma tu hai raffigliato! E' tutto l'intercappato! Ma che combinate? Sì! E non mi ha raffigliato niente! Hai capito? Perché come ti dico, tu non vuoi capire! Confermata, pezzacato! Tu non vuoi capire! E l'unica è una carta! Che c'è? Perché? Che c'è la tua! Che c'è! Che c'è la tua! Che c'è la tua! Che c'è la tua, chè? Che c'è la tua! E il canale! Che c'è la tua! Che c'è la tua! Che c'è la tua! Grazie a tutti.